Avvocato Fabian Selmo, il caso di Davide Bifolco è un caso difficile? Ma è un caso difficile come tutti i casi di questo tipo, dove l'oggetto dell'accertamento giudiziario è l'operato delle forze dell'ordine rispetto a situazioni di violenza che dovrà essere valutata se è violenza legittima o invece invece illecita o illegittima. Quello del Carabiniere diventa la versione ufficiale per la stampa, mentre la nostra è quella della famiglia, in modo tale che già nell'immaginario collettivo l'indagato è un indagato qualificato, perché se l'Avvocato Anselmo viene indagato e dà la sua versione su un fatto rispetto al quale è indagato, l'Avvocato Anselmo rimane indagato e basta, lo dice l'indagato. Se lo dice invece il Carabiniere che è indagato, questo diventa versione ufficiale, quindi abbiamo immediatamente una promozione di verità e una patente di verità, quantomeno da un punto di vista di opinione pubblica, un punto di vista mediatico, che certamente un po' ci infastidisce. C'è una voce che circola fin dai primi giorni dopo la morte di Davide e che sul posto è stata ritrovata una pistola giocattolo con il tappo di rosso di identificazione asportato e addirittura sulla quale pistola ci sarebbero le impronte di Davide. Ma guardi, questa è una circostanza che sinceramente io mi sento di poter al momento escludere, cioè non è dato saperlo per quanto ci riguarda. La pistola di cui si parla oggettivamente è completamente estranea da tutto il teatro dei fatti, così come è descritto da tutti i testimoni. La pistola non esiste, bisogna vedere dove è stata ritrovata questa pistola e poi dopo ci saranno degli accertamenti, noi non ci spaventiamo di queste. Quello che è successo e quello che è importante noi lo abbiamo preso dai testimoni. Dopodiché autopsia, accertamenti tecnici ci diranno ovviamente qualche altra cosa in più. Rispetto a questa pistola posso solo dire che comunque sia anche la dinamica ricostruttiva offerta dalle cosiddette fonti ufficiali, fra virgolette perché sono quelle a cui ho fatto riferimento prima, è una ricostruzione dei fatti che esclude o comunque non parla del fatto che il povero Davide avesse una pistola. Io credo che questa sia assolutamente una mistificazione. C'era un latitante a bordo del motorino, così come si dice in alcune versioni ufficiali, ufficiose o indiscrezioni? No, questo mi sento di poterlo escludere. Certamente questo accostamento tra latitante e Davide Bifolco fa parte di quella operazione, di quella macchina che io definisco del fango con tutto il rispetto per chi la usa, che vuole abbinare un evento tragico e diciamo incomprensibile, inaccettabile, che è la morte di un ragazzo di 16 anni con la presenza di un latitante, facendo leva su che cosa? Su un luogo comune, su un pregiudizio, su un luogo comune. E cioè siamo a Napoli e quindi tutto ci sta, come se fossimo a Kabul o come se fossimo nella striscia di Gaza o altri territori di guerra di questo genere. Io credo che anche gli stessi napoletani, sentire parlare di se stessi in questo modo, dovrebbero un attimino reagire. Giustizia! 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 Giustizia!